Buonasera, Andrea Capaldo con la Sicilia, io inizierei subito dalla festa o comunque dalle sue emozioni, appena è finita la partita ho visto abbracci importanti con il suo staff o con i giornatori, allora subito le emozioni perché credo che lei oggi possa liberare un po' anche di tensione dopo un anno appieno di lavoro, di sacrifici, di pressioni. Buonasera a tutti quanti, sicuramente è stato un anno facile, adesso che vediamo la cristifica però è stato difficile, di grande lavoro della squadra, dello staff, devo ringraziare il presidente Belligria perché ci ha messo nelle condizioni di fare calcio ad alti livelli ognuno di noi, penso che ognuno di noi avevamo il dovere di rispondere sul campo per i sacrifici che loro hanno fatto, perché alla fine con un pubblico così importante, ringrazio tutto lo staff, ringrazio tutti i calciatori dall'inizio alla fine, perché raggiungere un obiettivo così con tanti punti di vantaggio sulla seconda non è una cosa facile, forse credo in serie B che sia stata la prima volta, per questo dall'inizio alla fine siamo contento che tutti quanti noi insieme abbiamo portato il Catania nei professionisti e sicuramente veniamo ricordati nella città, come tanti lavoratori che abbiamo fatto questo successo, per tutti quanti la vittoria del Catania è una vittoria di squadra, da Angelo, da Pastanise, da Biaggianti, dallo staff, c'è raggiungere così tanti risultati, solo una squadra coesa con un gruppo che ognuno di noi si gioca qualcosa di importante qui a Catania, fatto sì che il Catania oggi sta nei professionisti, perché è troppo facile pensare che il Catania vinceva perché si chiamava Catania, perché ha fatto una squadra, ma metterli insieme non è stato facile, ringrazio alla Neri, perché già ieri in conferenza stampa è stato l'artifiche di questa costruzione di competenza, di conoscere i meccanismi di questo campionato, due mesi prima della fine che il Catania vinceva penso che è una cosa importante, una ripartenza importante per tutti quanti noi. Qualche giorno fa ho visto che lei ha pubblicato sul suo Facebook un video emozionale, lei andrebbe di le passi anche qualche sassolino? No, credo che un allenatore i risultati, io l'anno scorso penso a tre giorni dalla fine dell'anno scorso, penso in campionato a Giuliano facendo un risultato, dopo un anno mi trovo qui a festeggiare un altro vittore di campionato, credo che noi allenatori meno parliamo, già siamo sull'occhio del cilone, pronti alla critica, per il motro, per la tecnica, per la tattica, per la scelta dei giocatori, per questo, credo che il migliore allenatore meno parliamo è meglio, il campo è quello che decide per noi, dedico questa vittoria a mia figlia che penso che in 10 mesi sta lontano da lei, a tutti i papà, che oggi è la festa del papà e al mio caro papà che non ci sta più che oggi forse è dal cielo, la giovedì insieme a me. L'ultima veramente, poi c'è il microfono, si sente dire che Ferraro è stato chiamato perché conosce la Serie D e quindi era uno specialista della Serie D, io le dico, la domanda è, ma Ferraro può allenare in Serie C, può vincere la Serie C al prossimo? Io credo che mettere delle etichette su delle persone, su degli allenatori non è una cosa giusta, penso che ognuno di noi, per giudicarlo bisogna giudicarlo vedendo all'opera, per questo io mi credo un allenatore, a prescindere dalle categorie che vengo chiamato, perché penso che, non credo che gli allenatori in Serie C hanno due cervelli o giochiamo un campo di 300 metri, penso alla fine è importante che ci sia la società che mette un gruppo di gelatori a disposizione e l'altro deve essere bravo di mettere tutti insieme, per questo a volte le categorie le facciamo noi, ma è sempre il campo che decide e il risultato. Grazie. M. Salvo Russo, come giustero di gioco, traspare un minimo di emozione a fine gara, perché consapevole del risultato che avete raggiunto, ad inizio di stagione la missione era quella, cioè vincere il candidato, ma forse a sei giornate alla fine vincere così in anticipo con questa forza prepotente, è un grande risultato del candidato? Sì, è un grande risultato, oggi prima della gara quando ho fatto il giro del campo, che è un po' una mia abitudine per giurare il campo e tutto, ho visto dei tifosi che mi hanno applaudito, ho visto, era la cosa forse che volevo, ho il migliore riconoscimento, non sia stato apprezzato come uomo e poi come allenatore, perché alla fine vedere che il pubblico di Catania applaude un allenatore insieme allo staff significa che hanno capito il lavoro che abbiamo fatto, questa forse è la migliore soddisfazione, la cosa che porto dentro nel mio cuore, della mia vita, perché sono state le emozioni uniche, perché superare Catania come allenatore e fare dei risultati non è una cosa facile, solo chi la vive può capire le difficoltà e soprattutto quello che vuole la gente. Torno un attimo alla partita, anche se forse oggi passa ancora in secondo piano, nel primo tempo il canicattivo ha messo in difficoltà anche dal punto di vista fisico, poi nel secondo tempo, come sempre, i cambi hanno inciso e soprattutto nelle fasce si è sviluppata una moda che poi ha scambiato la difesa. Ma sicuramente, il canicattivo la conosciamo, una buona squadra, una squadra ben allenata, una squadra che si deve salvare. Penso che era la partita che dovevano fare loro, nel senso che si abbassavano e poi ripartivano, per questo abbiamo preso, forse, sull'invio del portiere lungo, l'angelo lungo abbiamo preso il calcio di rigore. Forse era l'unica vera preoccupazione, perché poi alla fine la partita l'abbiamo fatta noi dall'inizio alla fine, è come sempre una partita negli acchi di 90 minuti, quando il Catania vuole fare il Catania poi esce la qualità, esce i giocatori, escono i campi, esce la rosa, tanti giocatori che alla fine sono importanti per questa regoria e lo dimostrano con il valore quotidiano ogni settimana. Francesco Rosa da ETV, mister, glielo chiedo, intanto complimenti davvero e congratulazione perché non era scontato che l'esito fosse questo con tutto questo anticipo. Come uomo prima che come allenatore, cosa significa per lei aver sentito Giovanni Ferraro salta con noi a Catania, da questa gente, a livello emozionale, cosa ha sentito dentro di sé, al di là di quello che è il risultato sportivo poi, veramente anche dal punto di vista umano? Ho sentito che forse con il mio modo di fare... La prima volta che l'ho sentito questa prima. Il mio modo di fare nel senso di parlare poco e di far parlare il campo con il lavoro, solo di volare sempre basso, forse è quello che vuole la città di Catania, no? Perché alla fine veniamo da una città che viene dal lavoro, dal sacrificio, che tutti i giorni stanno nella conquista per portare avanti le proprie famiglie. E penso noi siamo una famiglia catania e abbiamo dimostrato col lavoro, col gruppo e con l'omezione di dedicare dei successi a tutto il pubblico di Catania. E per quella fine solo rispondendo così sul campo possiamo portarle verso tutta la parte nostra. Grazie. Grazie. Come ci è piaciuto il New Sicilia? Senta, a suo volto... Un altro complimento. Sì. Veramente. È stata una bella corsa, è una vittoria stramericata. Però da sua volta in questo momento vediamo più tensione adesso che prima. È come se stessero scorrendo dieci mesi nella sua mente. Sì. Sto parlando? No, no, no. È vero. Ho fatto una giusta osservazione perché vedo un lavoro fatto e raggiungere l'obiettivo non è che il Catania oggi finisce il proprio campionato. Però abbiamo raggiunto il primo obiettivo di vincere questo campionato. Però il campionato del Catani incomincia già da domenica prossima perché ci chiamiamo Catani e non bisogna abbassare la guardia. Però vedere così tanto lavoro alle spalle fatto e arrivare a un risultato importante mi inorgoglisce perché alla fine sono stati tanti sabato sera che giustamente io insieme allo staff non abbiamo dormito e tante domenica sera dopo la partita che riusciamo a portarci l'adrenalina per questo. Abbiamo dato davvero tante ore di lavoro per il nostro lavoro che amiamo e il nostro successo è di tutto lo staff, di Zeoli, di Catania, di Tomei, del prof. Gaetano, di Ivan, di tutti quanti. Il lavoro non è che a volte bisogna centrarlo sulla società, ha messo degli investimenti importanti. Il direttore Dallani ha fatto la squadra, il miss e il paracet, però il lavoro sono tante persone che lavorano dietro al Catania e fanno dei grossi casi d'arrifici. Perché alla fine il Catania cresce al di là delle scelte di Ferraro o dei giocatori però Catania resta alla città e noi dopo questo avevamo il dovere di portare il Catania ai professionisti. E domanda diretta. Quale concetto sarebbe di posta firmata per di restare il Catania? No, ma credo che abbiamo una società così di calcio tra vicepresidente Grella, Bresciano, gente che ha fatto calcio ad Altripelli, la direttore Lanelli. Sono contento di quello che ho fatto per il Catania fino ad oggi. e poi tutto il resto non è importante né per me né per il suo. Grazie. A chiudere. Mister, tutti i giocatori sapevano perfettamente i meriti di tutti i titolari, ma se ci dovesse fare un nome di uno che è stato fondamentale ma soprattutto all'interno della gestione dello studiatorio, che nome faremmo? Faccio il nome dei 28 giocatori della Rosa che dal 4 agosto stanno qui e danno l'ottavo per questa maglia. Sarebbe non giusto elogiare qualche giocatore o meno altro. Per me la vittoria del Catania è stata dal martedì al sabato di tutti gli allenamenti. Per questo il Catania non ha vinto per un singolo ma ha vinto per una squadra, per un collettivo. Quello che il presidente Grella voleva dall'esterno ha costruito una famiglia. Torno a ripetere, è facile perché adesso abbiamo avuto il risultato, però penso che anche nel campionato di Serie D, vedere la classifica mi sembra che siamo 22 punti sopra le altre squadre e abbiamo fatto qualcosa di importante. Molte squadre in questo campionato si sono nascosti dietro al Catania perché alla fine dei campionati si possono vincere ma con 3, 4, 5, 7 punti di vantaggio. Abbiamo visto anche nel passato squadre come Palermo, come Parma, come Bari per vincere in Serie D. L'hanno dovuto sudare e sacrificare. Invece il Catania ha dimostrato quello che voleva la società, quello che voleva il pubblico. Ancora mi ricordo l'alimiazione di Coppa Italia, quello che è successo un po' durante 9-10 partite per capire tutti i meccanici. Ringrazio tutti i ragazzi perché alla fine si sono calati nella mentalità e soprattutto nella categoria. Perché tutti i giochi del Catania, nessuno l'anno scorso ha giocato in Serie D, solo Betters e Boccio. Poi tutti i resti vogliono andare ai professionisti. Venire qui e vincere e calarsi nella gloria devo ringraziare alla squadra dal primo alla fine. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.